Sarà un ragusa tutto da scoprire, una squadra che non ha avuto ancora modo di effettuare alcun test per le vicissitudini riguardanti l'emergenza sanitaria e che dunque sarà costretta, gioco forza, a sperimentare la propria forza in occasione della prima gara ufficiale domenica 6 settembre, andata del primo turno di Coppa allo Stadio Kennedy di Santa Croce. Ma non è un problema per l'allenatore degli Azzurri, Filippo Raciti, che ieri pomeriggio ha fatto sostenere una partitella in famiglia e suoi sul green dello stadio Aldo Campo di Contrada Selvaggio. È probabile che questo gruppo abbia ancora necessità di qualche puntello, sottolinea, ma la società sta già provvedendo. In ogni caso, dopo domenica ci renderemo ancora meglio di ciò di cui c'è bisogno e cosa servirà per migliorare. Certo, i ragazzi hanno fame di giocare a calcio dopo 5 mesi di stop e siamo tutti curiosi di vedere come sarà gestita, dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale, questa ripartenza. La squadra è stata allestita sapendo di avere un determinato obiettivo in mente. La società, inoltre, intende da esprimere apprezzamento per la collaborazione dimostrata dal Marina di Ragusa Calcio nel mettere a disposizione alcuni dei propri ragazzi che indosseranno la nostra maglia. Ecco, grazie a questo spirito d'intesa, possiamo sperare di fare crescere il calcio nella nostra città. Il fischio di inizio al Kennedy di Santa Croce è in programma alle 16. In Serie D è anche piena fase di crescita il Marina di Ragusa, che ha già avviato una serie di contatti con private denti che credono fortemente nell'azione sportiva che sta mettendo in campo la società del presidente Francesco Pastorino. Una crescita costante e attiva che pone la società rosso-blu tra le più solide e maggiormente proiettate alla programmazione di attività calcistiche che guardano con molta attenzione ai giovani calciatori. Ne è stata conferma già lo scorso anno quando il Marina di Ragusa Calcio è risultata tra le squadre più giovani d'Italia nel campionato di Serie D. Sullo stesso solco, anche per il prossimo anno, la squadra sarà composta per lo più da giovani calciatori. Il mondo del calcio negli anni si è rinnovato e l'evoluzione del proprio brand accompagnata dalla visibilità del proprio partner non può che essere un obiettivo fondamentale per una società ambiziosa e vogliosa come lo è il Marina di Ragusa. Una nuova opportunità dunque per chi crede nei valori che la dirigenza rosso-blu dona quotidianamente a questo sport, cercando di valorizzare e pubblicizzare tutte le splendide realtà imprenditoriali e associative dell'intero territorio ibleo.